Musica Con la lezione del sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo si conclude la seconda edizione dell'Università d'Estate sull'Intelligence. È stata un'edizione molto importante con lezioni significative come quella del Presidente del Comitato Parlamentare sulla Sicurezza della Repubblica Lorenzo Guerini e quella del Colonnello Alessandro Ferrara della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste lezioni sono state arricchite anche da presenze come quelle del Rettore dell'Università della Calabria Gino Crisci, del Direttore del Centro Studi Americani Paolo Messa, come quella del Comandante della Legione Carabinieri Calabria Vincenzo Paticchio, come quella del Direttore del Dipartimento di Lingue, Scienze e Educazione Roberto Guarasci, e che hanno tutti portato delle fondamentali riflessioni per fare in modo che l'intelligence non sia più una brutta parola o un termine che evoca delle trame oscure, ma invece considerare l'intelligence per quello che è, cioè uno strumento fondamentale per difendere la sicurezza e il benessere dello Stato e anche uno strumento decisivo per ciascuno di noi per poter individuare le informazioni rilevanti e quindi poter resistere all'eccesso dell'informazione che produce una società della disinformazione. Quindi un evento di grande attualità perché oggi combattere la disinformazione, dal mio punto di vista, è l'emergenza democratica ed educativa più importante. Grazie.